A questo punto invito Roberto Pissimiglia, il Presidente della Commissione di Designazione a presentarci la loro relazione e colgo l'occasione per ringraziare insieme a Roberto anche Ivo Nardella e Claudio Rossi che della Commissione hanno fatto parte, hanno fatto un duro lavoro. Grazie. Sì, buongiorno a tutti. La Commissione dei Saggi per la Designazione del Presidente Annes ha avuto quattro giornate di incontri abbastanza asservate, di dialogo diretto con un terzo dei soci che è un campione assolutamente rappresentativo dell'attuale realtà di Annes, composto di aziende piccole, medie e grandi dimensioni da alcuni soci aggregati, importanti, e da tutti i past president altrettanto importanti e ovviamente da Presidente in carica. Mi associo con Cristina perché vorrei innanzitutto ringraziare anche a nome di Ivo e di Claudio i 39 soci che hanno dato il loro tempo e ci hanno fatto pervenire riflessioni, devo dire e qui tempo sottolineando sempre puntuali, pertinenti e utili che quindi diventano un patrimonio comune. Cinque sono state le domande e quindi le sollecitazioni intorno alle quali abbiamo chiesto il parere della base degli associati, il primo quesito non poteva non essere come giudica l'operato del Presidente greco e qual è il suo parere sulla validità dell'impostazione data, solo pareri favorevoli, solo elogi bulgari, per le doti e per lo stile che hanno contraddistinto l'operato del Presidente, per il tempo dedicato all'ANES, aspetto non trascurabile, per le iniziative volte al rinnovamento dell'associazione, per il metodo applicato, per una sintesi di quello che ci avete detto. E come si evince dai commenti specifici che ci avete lasciato, certamente il Presidente non può che essere orgoglioso, direi anche Cristina e tutto il gruppo che ha affiancato la prestezza e la struttura di questo duplice mandato, ha fatto il massimo. Questa è un'espressione che abbiamo colto in più di un'intervista, la Presidente ha forse la miglior sintesi dei commenti. Siete andati molto oltre, ma ha fatto il massimo, è una bella espressione che certamente ci ha stimolati anche subito a concludere la prima domanda, che ovviamente è di introduzione per quelle successive. Difatti il secondo quesito verteva più specificamente sulla nostra associazione su ANES. Come chiedevamo, abbiamo chiesto ai suggerimenti o proposti da indicare per l'orientamento del futuro programma di ANES. Moltissimi suggerimenti che ci avete dato, non facile stilare un quadro di sintesi che li comprenda tutti. Volendo lasciare qualche indicazione operativa a chi rileverà il testimone, potremmo indicare almeno i main focus emersi più volte nell'intervista. La prima è approfondire conoscenza e ascolto dei soci, facendo conoscere meglio le loro success stories, in modo da favorire anche il dialogo, l'interscambio, le collaborazioni e le aggregazioni tra i soci ANES, come ha anticipato poco fa il Presidente. Poi, costituire gruppi d'acquisto per servizi e prodotti. Tre o quattro di voi hanno focalizzato la loro opinione su questo aspetto. Favorire lobby anche nei confronti di banche per agevolare le linee di credito. Proseguire con programmi di formazione anche a distanza, anche in house, anche a editori non associati. Trovare nuove formule di business e di income per l'associazione. Questa è sicuramente una scommessa importante per il futuro. Terzo, eccoci al quesito intorno al quale poi votavano tutti gli altri, a un candidato da segnalare per la prossima Presidenza di ANES, quale sarebbe secondo lei il profilo ideale del futuro Presidente, quali requisiti dovrebbe avere. Sono emerse chiaramente alcune linee guida del profilo ideale del nuovo Presidente, che è quella di un imprenditore di esperienza, con doti di negoziatore, con competenze multicanale e che possa mettere tempo a disposizione dell'associazione. Strettamente connessa con il mandato del futuro Presidente, era la domanda, considerando le difficoltà del momento, come valuterebbe un modello di governance di ANES in modo più allargato e collegiare. Questa domanda ha riscontrato pareri assolutamente favorevoli, se per governance intende una più specifica declinazione e attuazione di quanto già messo in atto con l'attuale Comitato di Presidenza, visto quasi come un CDA di un'azienda. Da sottolineare che molti soci a questa domanda hanno risposto, ritenevo che fosse già così, ma governance è un'issima, fosse già ben allargata. Bene, abbiamo registrato qualche parere dubbioso o negativo, l'ipotesi di una più allargata e immarcata con leggerità, ma quello che sottolineerei comunque è l'attenzione, l'attesa, per una leadership chiaramente espressa. Infine l'ultima domanda che abbiamo posto, è una specie di sondaggio, cioè nel panorama del settore delle editorie e della comunicazione, identifica o conosce altri soggetti con cui ANNES potrebbe stringere delle alleanze strategiche, se sì quali, e ritiene sia un percorso utile da esplorare, immaginando l'ANNES del futuro. Sulla strada delle alleanze non avete avuto nessun dubbio, o quasi, vanno cercate, esplorate e possibilmente messe in atto. La metà dei soci dà direttamente luce verde in questo senso, con almeno nove associazioni segnalate dai soci per una possibile strategia di alleanza. Anche in questo caso abbiamo notato alcuni dubbi o dei distinguo, alcuni soci hanno espresso peraltro parere favorevole a iniziare con verifiche di fattibilità di possibili alleanze prima di decidere. Solo quattro i pareri negativi sul totale dei 39. aveva peraltro sottolineato che non era compito di questa commissione entrare nello specifico delle forme di alleanza o addirittura di fusione con altre associazioni. Mi limiterei ad osservare che il tema ha suscitato interesse, certamente, e che la base dei soci non pare volersi sottrarre ad un'eventuale discussione o approfondimento in merito. Questa era appunto l'ultima sollecitazione che abbiamo rivolto di cui il nostro presidente, condivato dal Consiglio, giunta e direttore non potrà mantenere conto. Mi permetto, anche a nome di Ivo e Claudio, di aggiungere che molti di voi, a di là delle risposte fondamentali, hanno compreso o hanno voluto sottolineare la situazione critica che è ANES e l'editoria, meglio, che è l'editoria tutta. Quindi ANES si prova ad affrontare. Quindi la necessità di essere più compatti, incesivi e determinati che mai. Alla luce di tutto quanto emerso, e precedentemente descritto in questa relazione, non avendo ricevuto candidature spontanee, la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti, attenendosi alle indicazioni da voi emerse circa il profilo ideale del futuro presidente. Queste ulteriori verifiche hanno incontrato la disponibilità del consigliere membro di giunta Andrea Boni, che ha formalmente espresso la propria candidatura. Il profilo di Andrea è a nostro parere pienamente compatibile e rispondente alle necessità e requisiti evidenziati dagli associati durante le consultazioni. Il presidente in carica e i vicepresidenti hanno tutti esplicitato la loro posizione favorevole alla candidatura di Andrea Boni e quindi la giunta, come sapete, nella seduta di fine aprile del 27 aprile, ha deliberato a maggioranza assoluta la designazione di Andrea Boni alla presidenza dell'associazione ed invita pertanto questa assemblea ad esprimere il proprio consenso alla reelezione di Andrea Boni al presidente dell'ANES per il prossimo terreno. Qui finisce la relazione della commissione per mettere un piccolo caneo personale perché quando a novembre, inizio dicembre ho accettato l'incarico di presiedere la commissione di designazione l'ho fatto anche nella convinzione di non essere candidato alla presidenza anzi, ero convinto, come sono convinto di voler tirare quantomeno un respiro poter fare un passo di fianco perché come molti di voi ricordano di Gisela per prima dieci anni di ANES li ho vissuti diciamo in front line con vari incarichi e questo che ho appena contuso è solo uno di questi io penso che certamente ci sono delle priorità che vanno rispettate io sento che in questo momento certamente il mio è solo un cambio di sedia perché resterà inalterato il mio impegno il mio ingaggio in ANES per i valori che ANES rappresenta per i progetti che ANES saprà mettere in campo e mi sono appuntato per l'imprescindibilità per chi fa il nostro mestiere a essere parte di ANES quindi mi vedrete meno in front line ma ANES resterà nel mio front art questo è sicuro grazie